Ciao! Io sono Fabiana. State guardando la mia amica Belle. Forte! Ed io sono Carla. E anche la mia voce può dar vita ad un personaggio. La mia voce è diversa da quella di Fabiana ma non è da meno. Ci sono anch'io. Sono Paola. Anche la mia voce è creata al computer. Ci sono anch'io. Sono Federica. Anche la mia voce, è creata al computer. Come al solito ci si dimentica di noi uomini. Sono Roby. Un saluto. Sono Luca. Un saluto anche da me. Sono Vittorio. Un saluto anche da me. Un saluto anche da me.